Maria Grazia Gallo. Rosa gialla. Anno 2024. Tecnica mista, materico, acrilico, su tela galleri, centimetri 70x70. Maria Grazia Gallo risolve nell'immagine della rosa la sua tensione nell'esprimere una trascendenzialità che liberi il soggetto da ogni banale materialità. Isolando la rosa da un più vasto contesto naturale, si astrae ad una visione non immediata, e diventa portatrice di valori che si trasmettono nella capacità del fruitore di cogliere l'intimo significato dell'opera. Maria Grazia Gallo, artista eclettica, si forma in un particolare ambiente culturale e sociale caratterizzato da una costante partecipazione, essendo la fondatrice. All'estate Ragazzi di Suzzolins, dove da oltre 33 anni si occupa dei laboratori artistici, ed è sarta teatrale del Rione Cicolino, per la sfilata storica del Palio di Cordovado. Da una esperienza di autodidatta, affina le proprie conoscenze pittoriche, sotto la guida del maestro Ezio Ciprian, su supporti pittorici di varia natura, in particolare tela, iuta, carta vetrata, legno ecc. L'orizzonte delle sperimentazioni tecniche spazia dal mosaico, alla pittura acrilica, acquerello, olio, tempera all'uovo per iconografia e sculture in carta pesta. È amante della natura e delle cose che la circondano e per questo predilige ritrarre il paesaggio e gli oggetti del quotidiano, come frutti e fiori, in particolare rose. Ella osserva la realtà nella sua esteriorità, però cerca di entrare nell'intimità delle cose per fermare il tempo inesorabile della loro caducità.